Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. C'è ancora grandissima battaglia per il ventesimo posto libero nel campionato di Serie B dell'anno prossimo. Ieri sera, finale di andata tra Vicenza e Carrarese nei play-off di Serie C, è finita 0-0 al termine di una gara molto vibrante e molto combattuta che non ha tradito le attese. Carrarese meglio, sicuramente ha lasciato un'impressione migliore. Certo, bisogna dire che il Vicenza sta affrontando queste partite finali davvero con tante assenze e con tanti colpi anche della malasorte, come per esempio l'infortunio di Ronaldo subito dopo pochi minuti di gioco. È entrato Fausto Rossi, che era da un po' che non giocava alla titolare, ha faticato magari nei primi minuti. La Carrarese è partita forte, fortissima, ha messo molto in difficoltà il Vicenza, che senza Ferrari lì davanti sicuramente ha perso un po' del proprio potenziale offensivo. E poi ha avuto una serata negativa, soprattutto da delle monache e anche della morte. Stavolta non è riuscito a essere così incisivo come nelle gare precedenti. La Carrarese mi è piaciuta, è una squadra che gioca veramente in maniera molto ordinata, recupera il pallone molto rapidamente, sa andare sulle fasce, ha davanti delle punte ficcanti. Forse è mancata proprio la precisione nell'ultimo passaggio, nel creare reali occasioni da rete, perché se stiamo poi a vedere, Confente non ha dovuto effettuare realmente grandi interventi per mantenere inviolata la propria porta. Anzi, poi nel finale il Vicenza ha avuto un paio di occasioni anche molto interessanti. Vicenza che nel primo tempo ha sofferto molto, di fatto è riuscita a farsi vedere molto poco dalle parti di Bleve, vecchio amico del canale, perché giocava nel Lecce, che come sapete è una delle squadre che seguo di più su questo mio canale. Il secondo tempo invece è vecchio, è stato come sempre molto bravo, davvero un allenatore in grado di trovare sempre tante soluzioni, tante soluzioni all'altezza della situazione, perché nel secondo tempo con un paio di sostituzioni è riuscito a essere molto più quadrato, a rendere meno pericolosa le azioni offensive della Carrarese e mano a mano, soprattutto quando Costa è cresciuto sempre di più, dopo un primo tempo anche un po' difficile del giocatore che era stato il migliore in campo in occasione della gara contro l'Avellino, autore anche di quel bellissimo gol del momentaneo 2-0. Costa finito alla grande, bellissimo il suo duello sulla fascia, è una Vicenza che negli minuti finali mi è sembrato quasi comunque sia essere forse più fresco, erano anche gli ultimi mattimi della partita, cercare di arrivare poi alla gara di ritorno con un vantaggio da difendere. Invece finita 0-0, risultato direi complessivamente giusto, il termine di una gara giocata con una buona intensità da parte di entrambi le formazioni, per questa volta anche ben arbitrata, perché Arena ha lasciato un metro molto solido, robusto, l'ha lasciato da embo le parti, non ha fischiato tante cose che i suoi colleghi sicuramente invece avrebbero fischiato, soprattutto piccoli falletti in mezzo al campo o scene di giocatori che magari si lasciavano andare giù con troppa facilità, mi è piaciuto il suo modo di arbitrare e credo abbia fatto bene anche proprio al rendere la gara un po' più godibile. Ingenuità nel secondo tempo per il Vicenza, perché Proia è stato ammonito, si è fatto ammonire e con questo sarà squalificato in una squadra che già ha così tante assenze e avrà già così difficoltà a presentarsi con un 11 vicino a quello titolare da un giocatore dell'esperienza di Proia, francamente questo non me lo sarei aspettato. Dare un favorito per la gara di ritorno resta comunque operazione non facile, la Carrarese è sicuramente una squadra in missione, ricorda davvero un po' il lecco del campionato scorso, la squadra che da sfavorita praticamente in ogni serie invece riesce a essere non solo vincente ma anche convincente ancora di più, ora avrà la partita in casa, vedremo il Vicenza magari di rimessa e con questa solidità comunque difensiva, anche in questo caso l'ingenuità di Golemic che si è fatto stupidamente spegnere contro Ravellino, ha privato la retroguardia del Vicenza di quello che è uno dei giocatori più forti, però soprattutto nel secondo tempo quando ho giocato Sandon mi ha convinto anche dall'apparato difensivo, sarà una finale molto aperta, in ogni caso il ventesimo posto credo che sarà occupato in serie B, che sarà occupato comunque da una squadra meritevole. Vi do le mie pagelle e attendo i vostri commenti che sono 6 e mezzo al portiere confente sempre discretamente sicuro tra i pali e come regia difensiva ogni tanto se vi uscite alte qualche incertezza, 6 e mezzo a Cuomo, 6 a Fantoni, sostituito all'intervallo da Sandon 7 perché Sandon ha fatto molto bene e ha davvero dato una diversa dimensione anche offensiva al Vicenza, 7 all'ottimo Laez, il migliore del Vicenza di ieri, 6 e mezzo a Decol, Ronaldo appunto uscito subito, 6 a Rossi che lo ha sostituito, 6 a Greco, tanto lavoro, tanti palloni recuperati ma anche un po' di errori in impostazioni un po' gravi, 7 a Costa per come ha finito la partita, 5 e mezzo della morte, 5 delle monache, 5 e mezzo Pellegrini, non la sua partita lì davanti a sgomitare, a lottare con la difesa della Carrarese, 5 a Proia, 6 e mezzo a Mister Vecchi per la Carrarese, molto bene il reparto difensivo, al di là di Bleve che non ha avuto particolare lavoro da svolgere, 6 per lui, 7 a Eliane, 7 e mezzo all'ottimo di Gennaro che ricordavo già molto bene l'Alessandria e si è confermato su valori assoluti, 7 per Imperiale, bravi, tutta la difesa da Carrarese mi ha molto convinto, 6 a Belloni, 6 e mezzo a Zuelli, 6 e mezzo dalla Latta e anche a Schiavi, 6 e mezzo così come a Cicconi, 6 invece per Finotto e 6 e mezzo per Panico, 7 a Mister Calabro che è stato molto bravo a mettere in difficoltà una squadra così in forma, così in salute, autrici di un playoff così buono come quello del Vicenza. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questa gara di andata, 7 all'arbitro Arena, il voto come vi ho detto mi è piaciuto il suo modo di arbitrare e quali sono le prospettive per la gara di ritorno che ripeto trovo che sarà comunque molto interessante e mi aspetto a essere ancora molto molto combattuta. Ciao a tutti, alla prossima, un bacio da Lox, ciao, iscrivetevi al canale.